Grande successo di pubblico per la partita benefica organizzata per la piccola Beatrice Nasi. Ce ne parla Carlotta Castelli. Bella abbiamo conosciuta lo scorso aprile in uno dei nostri eventi. Abbiamo organizzato proprio qui a Venaria una Friendship League, un torneo per aiutare un bambino autistico. È stato un incontro meraviglioso, è stato un amore a prima vista e dall'epoca abbiamo deciso di fare qualcosa per renderci utili anche per Bea e la sua famiglia. È commosso Walter Galliano, fondatore e capitano della Nazionale Italiana dell'amicizia, nel ricordare l'incontro con Bea, la cosiddetta bambina di pietra, affetta da artrogriposi, unico caso conosciuto in Italia. Una rarissima malattia che provoca il progressivo irrigidimento delle articolazioni. Beatrice è oggi in cura all'ospedale infantile Regina Margherita. La struttura ossea ha iniziato a calcificarsi dopo pochi mesi di vita, fino ad impedirle qualsiasi movimento. Per Bea nel fine settimana si è giocata una partita di calcio speciale, il primo derby dell'amicizia, la Nazionale Italiana dell'amicizia contro la Nazionale Italiana degli Amici di Canale 5. La manifestazione è stata promossa per tenere a battesimo gli amici di Bea, l'associazione voluta dalla famiglia della piccola Beatrice, affinché la bimba possa essere visitata all'estero per capire se può sperare in un futuro diverso. Il 4 settembre la famiglia di Bea, mamma Stefania e papà Alessandro sono stati ricevuti da Papa Francesco, il ricordo vivo nelle parole di papà Alessandro. Siamo stati proprio dal Papa il 4 settembre dove è stato diciamo uno dei desideri che ha voluto Beatrice, è stato penso il giorno più bello della nostra vita, emozionante, bisogna viverlo perché tanti mi chiedono ma com'è questo Papa, giustamente bisogna vivere, bisogna stare lì e stare proprio davanti, è un'emozione veramente unica. Per Bea anche una canzone nata dal gruppo di amici. Per aiutare Bea a cercare comunque dei fondi maggiori in tutta Italia e in tutto il mondo e poi perché sicuramente la storia mi ha toccato e perché sia anche con l'organizzatore Walter ne abbiamo parlato, la canzone è venuta bene, il progetto era molto carino, io poi ho una sorella piccola quindi potrei essere suo fratello maggiore quindi mi sembra più, ho già dato troppi motivi e poi perché si fa con il cuore, è una buona motivazione.